E' una persona che fidarsi di queste persone che in questi 45 anni hanno governato in questo modo. Noi nei nostri comuni abbiamo bisogno di legalità, la legalità non la può fare il singolo cittadino come la televisione ci porta a credere che chi ha chiamato una casa o un'estitualità deve essere lui a controllare quante persone ci vanno bene. Questo è dello Stato, ci deve controllare e sono le forze preposte. Tutti assieme dobbiamo veramente metterci da tutta perché questo cambiamento non lega. Io passo la parola a Stefano, dopo presentiamo i giovani che è la nostra forza.